Petinari, siamo a Rancitelli, siamo in Via Lago di Borgiano e lei questa mattina con alcuni residenti è qui per parlare della situazione che riguarda questa particolare zona del quartiere Rancitelli dove ci sono delle problematiche. Sì, intanto voglio dirlo subito, sono fortemente preoccupato di quello che vorranno realizzare dopo l'abbattimento di questo palazzo. Questi si dovranno abbattere perché io sono stato il primo a fare la denuncia per la staticità della struttura e quindi non è a norma e vanno abbattuti. Ma dopo vogliono realizzare un grande parco. Allora qui vicino c'è un parco a 60 metri, ricettacolo di tossicodipendenti, zombie che si addormentano per terra con la siringa nelle vene, i bambini che giocano lì dentro. Allora i parchi in queste zone periferia, se non vengono sorvegliati H24, sono luogo di aggregazione della malavita. Quindi qui noi già sappiamo che dopo che abbatteranno questi palazzi e realizzeranno il parco, lo lasceranno come quell'altro perché è da anni che sto chiedendo la sorveglianza e non c'è. Quindi sarà un nuovo luogo di aggregazione della criminalità. Allora i parchi nelle periferie devono essere sorvegliati con un poliziotto fisso, presidio fisso, una guardia giurata armata, polizia locale, facessero loro. Poi qui si condiva a spacciare tutti i giorni, notte e giorno, persone che non hanno i requisiti che hanno le case popolari, persone violente, ci sono aggressioni, minacce, persone che non ce la fanno più. Spaccio di droga tutti i giorni, case popolari che vengono utilizzate per attività illecite e dovrebbero essere tolte. Quindi io chiedo con forza, e mi sto sgolando a ripetere, lo sgombrio di tutti gli occupanti abusivi, di coloro che non hanno i requisiti, di coloro che utilizzano le case popolari per attività illecite. E vorrei che quando si decide di fare un parco nella periferia, il parco deve essere super sorvegliato, altrimenti è un danno, quindi quel parco sarà un danno alla periferia.